ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi vi faccio vedere nel dettaglio e faremo un sacco di prove il nuovo dispositivo zigbee che ha messo in vendita sonoff che si chiama mini l l perché sta per linea fase praticamente si alimenta solo con la fase non richiede più collegamento del neutro non è una magia ma è una questione elettrica che vi spiegherò più avanti ovviamente salto la fase di accoppiamento perché in base alla piattaforma e allo sistema che usate ci sono procedure diverse però vi posso dire che io con home assistant su raspberry con chiavetta sonoff zigbee l'ha visto senza problemi a primo colpo e compatibile di conseguenza con tutti i vari bridge che possono essere quello di amazon quello di samsung lo stesso bridge sonoff insomma in base al metodo che usate che sicuramente già conoscerete perché se ce l'avete avete già degli altri dispositivi zigbee aggiungete anche questo senza problemi attenzione però perché alcune configurazioni vedremo dopo che si faranno direttamente dal dispositivo prima di andare avanti iscrivetevi al canale ve lo dico sempre non vi stuferò mai sarà una cosa antipatica ma è l'unico modo che avete per sostenermi in modo assolutamente gratuito basta un clic e mi fareste un grosso favore ora lo spacchettiamo e poi lo mettiamo sotto torchio eccolo qua sonoff mini l solita scatola arancione che contraddistingue i prodotti della linea zigbee tra le caratteristiche viene sottolineato che non neutral required quindi non necessita del neutro come supporto in uscita abbiamo da 6 ampere 1200 watt in uscita lo apriamo troviamo una manualistica che vi consiglio di leggere perché può sempre essere utile ci fa vedere subito in anteprima quali possono essere gli schemi di collegamento quindi una chiusura tra i morsetti s1 s2 con interruttore o con una deviata questo non vuol dire che si possa sostituire ad un impianto con deviatori senza fare modifiche vuol dire che bisogna isolare la deviata e portarla in s1 s2 oppure con ingresso su s2 direttamente con la fase e dopo vedremo perché il dispositivo si presenta in questo modo equipaggiato anch'esso con staffa per barra din o per essere tassellato appeso da qualche parte questa è la sua forma l'avevo già aperto in precedenza questa copertura della morsettiera è un po' antipatica perché un po' dura però è un'ottima protezione perché va a bloccare direttamente l'uscita qua sotto dove magari ci potrebbe essere un po' di ram che spunta viene isolato per tutta questa lunghezza e non abbiamo neanche accesso alle viti quindi rimane completamente isolato elettricamente questa cortezza non è male si presenta poi in questo modo con i quattro morsetti e le auto che è l'uscita per la lampadina e le in che la fase diretta s1 s2 che vedremo dopo le due possibilità di collegamento qui sopra ci ricorda appunto che il massimo carico è 1320 watt questo valore varia a seconda di come calcolate la tensione ci dà anche la differenza tra una lampadina resistenza e una lampadina led dove dichiarano un carico di 300 watt è un po' più grosso di un mini un pelino più spesso e come altezza siamo lì quindi occupa un po' più spazio di un mini dopo vedremo se effettivamente sta in una scatola 503 rispetto a un dual r3 ad esempio ha più o meno la stessa larghezza ed è un pelino più corto come spessore è identico una differenza importante è questa che vi faccio vedere perché ad esempio nel dual abbiamo la morsettiera molto vicino all'uscita che spesso fa fuoriuscire il rame e tutte le viti che rimangono scoperte ora vi faccio vedere prima come funziona a banco e poi lo montiamo davvero in una scatola bene come si collega il primo morsetto e le auto e la fase questo filo marrone che va alla lampadina che a sua volta è collegata direttamente al neutro il secondo morsetto l in e la fase questo filo nero diretta quella che arriva dall'impianto come fa lui a funzionare la lampadina anche se è spenta ha comunque una conduttività tra il neutro e la fase perché anche se è spenta ci sarà sempre una piccola conduzione tra il neutro e la fase lui tramite questo piccolo ritorno di corrente del neutro lo prende per alimentarsi ma in realtà non si alimenta proprio diciamo al 100 per cento ma rimane in stand by infatti se notate a differenza di un mini che è costantemente alimentato lui lo è ma diciamo in modo dormiente perché i led sono tutti spenti anche il primo led della connessione senza fili è spento ma lui in realtà è connesso dopodiché lui funziona perfettamente se io vado a premere il pulsante mi accende la lampadina e quando si attiva vedete che si accende anche il led del wifi della comunicazione e il led rosso dell'uscita abilitata i morsetti s1 s2 funzionano con l'attivazione normalissima chiudendo il contatto tra s1 s2 vedete che se chiudo il contatto si accende se lo apro si spegne il contatto s2 attenzione solo s2 funziona anche se la fase che arriva dentro s2 non è direttamente una chiusura del contatto con s1 ma anche se la fase arriva direttamente dall'impianto questa che è una fase diretta alla fine come quella nera se io la do su s2 vedete che si accende e se la tolgo si spegne questo perché perché il morsetto s1 di fatto è ponticellato col morsetto l in se io infatti prendo un neutro qualsiasi e vado a misurare su l in o il 230 volte se lo faccio su s1 o il 230 volte lo stesso s1 non è nient'altro che un ponticello sulla fase quindi la prima novità a livello di collegamenti è che non ha bisogno del neutro dove diventa molto utile questo tipo di collegamento in una scatola con un interruttore dove arriva solo la fase diretta ed esce la fase per la lampadina voi in quel caso staccate l'interruttore attaccate qua i due fini ricollegate l'interruttore s1 s2 hanno cercato di semplificare l'installazione al massimo e a dopo la faremo nella realtà dei fatti in una scatola ma la seconda novità molto molto importante è che questo dispositivo non lavora solo con un interruttore in ingresso ma anche con un pulsante quindi si può usare anche un comunissimo pulsante bisogna configurarlo per farlo lavorare in modalità pulsante ve lo faccio vedere al buio bisogna premere tre volte il pulsantino velocemente e lui risponderà con il led rosso che lampeggia tre volte vuol dire che commuta il funzionamento dell'ingresso s1 s2 da interruttore a pulsante notate bene vedete che ha lampeggiato in questo modo e attiva la modalità pulsante vedete che do un colpo si spegne do un colpo si accende quindi dà la possibilità di installarlo anche con comandi a pulsante che ovviamente possono essere in parallelo tra loro quindi ce ne può essere uno come 25 l'importante è che vadano a chiudere il contatto tra s1 o s2 o che restituiscano la fase della stessa linea però tra l'altro visto degli altri video delle anteprime dove sembrava che c'era la corsa a farlo vedere per primi si vede che abbiamo ancora i postumi dell'ns panel ma dove ho letto che addirittura è stato detto è ma purtroppo anche questo dispositivo zigbee come gli altri non ha la possibilità di essere comandato con pulsante vi ho appena fatto vedere che è fattibile ma non è una notizia top secret che i tiad e i poteri forti hanno dato solo a me c'è scritto nel manuale di istruzioni per tornare alla modalità interruttore basta rifare la stessa cosa quindi premere tre volte veloce lui di nuovo risponde con lampeggio e questo diventa un interruttore vedete che se io do il colpo non funziona ma se tengo premuto come fosse un interruttore torna a lavorare come prima ora ho lasciato collegato anche uno zigbee mini per farvi vedere la differenza nei tempi di reazione quando viene comandato io in questo caso uso un sistema con raspberry e chiavetta usb sonoff dongle 3.0 vi faccio vedere la differenza di reazione come tempi e soprattutto noterete una differenza sonora di attivazione perché questo relais sarà molto più rumoroso di questo non che sia un problema ma vi faccio notare ok proviamo ad accendere il mini ora proviamo accendere il mini l perfetto avrete notato che il mini è un pelino più veloce il mini l ci mette un attimino in più e soprattutto il relais è un po più rumoroso non che questo sia un problema ma vi volevo far vedere la differenza smonto tutto vi faccio vedere come montarlo fisicamente in una scatola questa è una condizione standard dove abbiamo un punto luce comandato da un interruttore la particolarità di questa installazione è che il punto luce va diretto per fatti suoi passando dalla derivazione quindi cosa ci sarà il neutro che è giuntato direttamente in derivazione e la fase comandata che è questo filo marrone che va all'interruttore nell'interruttore cosa troviamo troviamo esattamente la fase diretta questo filo grigio che esce e va alla lampada quindi voi aprite la scatola e trovate solo un interruttore con due fili questa è la miglior condizione per installare questo nuovo prodotto ora ripassiamo il concetto di fase diretta come faccio a sapere dei due qual è la fase diretta col cerca fase classico a lampadina cosa succede che io toccando la parte conduttiva del cerca fase tranquilli non si prende la scossa qui ci sarà una lampadina nel mio palmo che si accenderà quando tocco la fase diretta allora sul filo marrone vedete che non si accende mentre sul filo grigio si è accesa vedete vuol dire che questa è la fase diretta quindi arrivati a questo punto si toglie corrente si staccano i due fili dall'interruttore e si collegano direttamente al nuovo sonoff zigbee l la spellatura ideale è questa se sono spellati troppo lunghi accorciateli un pelino quindi l'uscita che andava la lampada al filo marrone che non aveva la fase presente col cerca fase lo portiamo su l out la fase diretta al filo grigio quello che si accendeva col cerca fase su l in poi vi preparate due spezzoni di filo qualsiasi per collegare l'interruttore che sempre spellando a pochi millimetri colleghiamo su s1 ed s2 non ha importanza al verso quindi anche in questo caso dove magari il filo sporge un pelino rame non è un problema verificate solo che siano tirati bene perché col coperchio andiamo isolare completamente tutto quanto vedete che rimane un collegamento pulitissimo ora questo ci starà nella 503 vediamo dunque come dimensioni ci siamo come profondità siamo proprio a pelo diciamo che se i due fili dell'interruttore che siano sotto sopra li fate andare qui dove rimane un po di spazio andiamo a guadagnare qualcosina lo teniamo tutto in alto o viceversa tutto in basso cercando di far cadere i due fili qua dietro in questo modo ci sta giusto 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 calcolate che questa è una scatola montata a zero quindi non c'è nessuno spessore di intonaco sulla scatola se avete magari qualche millimetro magari un centimetro di intonaco vi agevola sicuramente il montaggio ora diamo a corrente vediamo se funziona il tutto lui funziona perfettamente sia da interruttore che da comando via software poi da lì in base al sistema che usate per gestire la vostra rete zigbee farete tutte le personalizzazioni del caso questa è l'installazione principale per la quale viene concepito ma se vi può interessare potremmo valutare più avanti di fare anche un tutorial sugli impianti con pulsante con e senza il relè che avete già perché è fattibile in entrambe le condizioni e invece nell'impianto e deviatore diventa già più complicato perché lì in quel caso bisogna portare anche un filo di fase diretto per alimentarlo che è normalmente dove c'è l'ultima scatola con il deviatore che esce per la lampada non c'è quindi due situazioni che sono comunque fattibili vedo più semplice integrarlo nel discorso con i pulsanti un po più complesso integrarlo nel discorso con i deviatori ora mi sono procurato un po di lampadine per capire su quali tipi eventualmente funziona e quali no questa che abbiamo usato fino adesso è una classica lampadina a led da 0,6 watt prendiamo un altro tipo di lampadina led da 5 watt con dissipatore in alluminio un po diversa vediamo se va ci mette un attimino ad avviarsi ma funziona perfettamente lampadina led dell'ikea che funziona perfettamente classica lampadina a filamento quelle di una volta che non si trovano più col filamento lì tutto molliccio in mezzo anche lei funziona perfettamente lampadina sempre tradizionale ma di questo tipo ecco con questa lampadina è già un po che aspetto non funziona ovviamente lampadina che in realtà è perfettamente funzionante ma per lui non va bene quindi questa teniamola da parte ora lo riprovo con una che abbiamo già testato solo per vedere il tempo effettivo per la messa online un secondo due secondi 3 4 siamo a 5 e funziona già quindi velocissimo proviamo ora con un altro tipo di lampadina led queste fate a spirale che si trovano normalmente nei negozi cinesi funziona perfettamente anche lei lampadina led quelle che ormai si trovano ovunque con i filetti dentro che sostituiscono le vecchie lampadina a filamento e funziona perfettamente lampadina decorativa che ha questo filamento particolare a led che ce ne sono di vari tipi di tutte queste lampadine strane magari vi lascio anche dei link in descrizione se vi piacciono proviamo a montarla queste qua sono delicate bisogna avvitarle dalla base non da qua anche lei funziona perfettamente tra l'altro guardate che figata volevo provare anche due lampadine a basso consumo risparmio energetico funziona anche con la lampadina a risparmio energetico ne proviamo ancora un altro modello e funziona anche con questo tipo quindi abbiamo visto che di tutti questi modelli di lampadine che sicuramente non sono tutti quelli che esistono in giro ma penso di averne visti già un po l'unica che non funziona è questa tipologia di lampadina tradizionale halogena fatta in questo modo questa è una lampadina non riesco a farvelo leggere ma è una lampadina osram tra l'altro halogen eco da 70 watt e questa non va volevo fare ancora qualche altro tipo di prova quindi ad esempio una plafoniera led con il suo driver e funziona quindi anche attraverso un driver qualsiasi che vada ad alimentare direttamente dei led o delle plafoniere funziona un faretto a 220 volt a led e anche col faretto led funziona perfettamente un alimentatore a 12 volte in questo caso con una striscia led però noi per quanto riguarda il 220 volt ci colleghiamo all'alimentatore e anche l'alimentatore accende correttamente quindi funziona anche con l'alimentatore insomma un po di prove le abbiamo fatte dai abbiamo visto un po come funziona funziona bene diventa molto molto utile appunto diciamo quasi plug and play dove c'è la classica situazione con l'interruttore ovviamente se dalla scatola dell'interruttore passano anche il neutro la terra della lampada va bene uguale voi lavorate comunque su due fili di fase un dispositivo interessante sì adesso il discorso è conviene passare al protocollo zigbee per usare solo questo dispositivo secondo me no però ovviamente se avete già dei dispositivi zigbee magari usate anche delle lampadine insomma anche di altri marchi avete già la vostra rete zigbee e non vi siete mai voluti cimentare nel domotizzare gli interruttori per non andare a fare modifiche fili derivazione eccetera con questo dispositivo voi dove c'è un interruttore aprite staccate due fili riattaccate e avete finito quindi diventa di una semplicità tremenda costa 13 dollari e qualcosa sul sito di tiad vi lascio direttamente il link in descrizione magari se riesco ad ottenere anche qualche coupon sconto quindi prodotto molto interessante abbiamo visto che funziona con praticamente qualsiasi cosa tranne quella lampadina alogena nel caso ovviamente è molto più semplice cambiare la lampadina per utilizzare questo che andare a fare chissà quale modifica mi raccomando seguitemi su instagram massidattoli perché avevo già dato l'anteprima di questo dispositivo e aveva suscitato interesse e poi dopo ho fatto il video quindi vedete che seguirmi serve a capire cosa pubblicherò più avanti se vi è piaciuto il video un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo in una diretta del giovedì o al prossimo video ciao da massidattoli ciao 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 ciao